attraverso la strada questo riconduce davvero cappuccini avere posse perché non lo sa lungo questi antichi muri a secco sono i parcheggi nelle tavole di zonizzazione del piano di recupero zona d2 foglio 10 approvata definitivamente sul bollettino ufficiale regione abruzzo numero 33 del giugno 2007 comunque ammiriamo bellissimo la sotto c'è anche verde pubblica poi vi conto comunque un bellissimo panorama e ma se l'ho trozzata ecco qua la monte bacca in quella busta verde ho portato qualche cosa da mangiare tre mele e mezzo litro di acqua al sapore di rosmarino ci ho messo un rametto di rosmarino del mio orto oggi mi è piaciuto la giornata soprattutto è bello fare escursioni con gamma